Questo è un capitolo a parte da tutti gli altri e nonostante sia piccolo è molto importante che tu capisca questi concetti. Ovviamente l'utilizzo di tecniche di anonimato di bitcoin a fine di riciclare denaro sporco è illegale, ma la partecipazione o la gestione di schemi che utilizzano per il riciclaggio di denaro sporco può essere altrettanto illegale o potrebbe lasciare i partecipanti vulnerabili ad accuse di cooperazione con criminali e terroristi. Le tecniche di anonimato dei bitcoin, che coinvolgono grandi somme di denaro, ovvero con un controvalore compreso tra 1100 e 158 mila dollari, a seconda della giurisdizione, sono illegali nella maggior parte del mondo, essendo in violazione delle leggi al trilliciclaggio. Ti consiglio quindi di informarti circa le leggi e le regole del tuo paese per non incappare in problemi legali oggi o in futuro.